C'è il lavoro in allenamento, ci sono i gol importanti, le esultanze, gli abbracci, i tiri sbagliati, la paura di un gol subito nel momento sbagliato, ci sono l'ansia prima della partita, la carica, la parola del compagno accanto, le notti di studio degli allenatori che preparano le partite, ci sono gli ultimi secondi di una gara equilibrata, l'agitazione, la paura, la palla che scotta e che poi finisce in porta, ci sono le urla di liberazione per un gol pazzesco, le lacrime per una brutta prestazione, ci sono i sorrisi bellissimi delle nostre azzurrine, l'Italia vince i campionati europei under 19 di seconda divisione al centro tecnico federale di Chieti, le azzurrine più in alto di tutti sul gradino più alto del podio, foto di rito e sorrisi bellissimi come abbiamo detto delle nostre ragazze.